E' Erika Alessandrini il candidato ufficiale del Movimento 5 Stelle per la carica di sindaco del Comune di Pescara. La certificazione arriva direttamente dal Movimento e spazza via le polemiche sollevate dal consigliere comunale pentastellato Massimiliano Di Pillo riguardanti la possibilità di altre liste al vaglio sulla piattaforma Rousseau. Dunque sarà la 39enne pescarese Erika Alessandrini, ingegnere con la passione per la musica, impegnata politicamente già dal 2014 a correre con il Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni comunali di Pescara del 26 maggio. Abbiamo intenzione di realizzare qualcosa che finora non è mai stata fatta, quella di scrivere un programma con la cittadinanza. Abbiamo intenzione infatti di stendere quello che definiamo un programma partecipato, quindi ascoltare la città, saremo presenti nel prossimo mese in tutti i quartieri della città, con la squadra dei candidati, con gli attivisti, con tutti coloro che vorranno intervenire, perché vogliamo ascoltare direttamente, vedere e cercare le soluzioni ai problemi che emergeranno proprio nei confronti con la cittadinanza. Abbiamo il dovere di ascoltare, di metterci in ascolto e di elaborare priorità con chi la città la vive, chi in città ci lavora e chi non deve subire le scelte ma essere parte del processo decisionale. C'era stata un po' di polemica o comunque qualche dubbio sul fatto che ci potessero essere anche altre liste del Movimento. Mi riferisco insomma a quanto riportato anche dai giornali, dalla stampa, che ha riguardato un po' il consigliere Massimiliano Di Pillo. Il Movimento 5 Stelle certifica un'unica lista per comune. La nostra lista è stata certificata dal capo politico e quindi il Movimento 5 Stelle ha già preso la sua decisione, ci ha già nominato effettivamente come lista che concorrerà alle elezioni nella quale il gruppo ha evidentemente mi ha sostenuto e del quale quindi rappresenterò il candidato sindaco.